gentili telespettatori buona giornata ellie schlein mi hanno detto che si pronuncia così candidata alla segreteria del pd dicono che dietro di lei ci sarebbe la lobby di george soros questo george soros viene tirato in ballo un sacco dei complottisti ed alcuni giornali bene è candidata questa schlein per il partito democratico e così come sempre succede tutti cominciano a scavare nel passato di questa candidata tra vecchie nuove scoperte non passa inosservata la sua storia politica e si dice dietro la nuova paladina del pd vice presidente della regione emilia romagna non c'è solo un padrino ma due si tratta di romano prodi e george soros lo dice e lo scrive il giornale che parla della lobby che agisce nell'ombra questa formata da gruppi di potere circoli finanziari e organizzazioni politiche straniere che puntano tutte le fisce sulla figura nuova per imporre anche in italia un modello politico alternativo a quello della meloni quindi la sinistra dice per attaccare la meloni che faccio prendo un'altra donna e faccio l'antimeloni quindi se la meloni ha vinto di destra allora ci può essere anche una di sinistra che vince al suo posto beh non è proprio così matematico che se la meloni vince a destra tu basta che prendi una donna nuova tra virgolette della politica la metti la metti lì diventa l'antimeloni tutti votano lei e così vince sulla meloni è un po un discorso un po superficialotto è loro partono sul concetto che per fare l'antimeloni devono prendere un'altra donna per fare l'antimeloni visto che la meloni come donna era la novità primo premier in italia ci mettiamo questa ellie schline che anche lei donna così anche noi cavalchiamo la cosa della novità dai dopo fate governare noi del pd con la con la signora voi avete la signora meloni noi abbiamo la signora schline così capite che è una mentalità che potremmo dire alquanto infantile superficiale superficialotta però intanto questo modello politico alternativo a giorgia meloni avrebbe dietro queste persone queste questi questi gruppi di potere e così tra i maggiori sponsor ci sarebbe romano prodi ma soprattutto la sua parola sarebbe stata necessaria per spostare sulla schline pezzi di nomenclatura di sinistra ad esempio letta zingaretti che prima erano orientati a votare per andrea orlando beh potrebbe guardate la sinistra che non ha più un'identità potrebbe cominciare a cercare un'identità mettendo l'anti meloni però cari sinistri non vi è bastato il ventennio con berlusconi e poi salvini non avete ancora capito che creare un partito contro qualcuno non funzionano i partiti contro qualcuno perché quando fate un partito contro qualcuno quel qualcuno che diventa diventa quello perseguitato accusato di tutto prende ancora più voti prende ancora più voti perché gli italiani sono fatti così ma l'essere umano è fatto così si mette sempre dalla parte di quello che viene aggredito ecco però accanto a romano pr a romano pr a romano intense e lui o non è lui certo che lui tempo addietro ad aver inserito l'antimeloni nella lista dei politici buoni da finanziare quelli tanto buoni perché tanto buono l'obiettivo una sponda nei leader e nei politici ecco questo è questo è quanto però cari miei con i soldi non si comprano i voti in italia negli anni c'è gli stati uniti che hanno finanziato la democrazia cristiana e l'unione sovietica che finanziava il partito comunista italiano ci sono prove di milioni di dollari arrivati dagli stati uniti e dall'unione sovietica a pioggia e questi soldi sarebbero serviti in passato per condizionare l'opinione pubblica e beh l'italia la destra è stata sdoganata con dopo berlusconi confini ma prima di arrivare allo sdoganamento allo sdoganamento della destra l'italia è stata sempre di sinistra se volevi fare un certo tipo lavoro dovevi essere di sinistra dovevi fare il giornalista il professore universitario il magistrato tante cose dovevi essere di sinistra magari non lo eri ma facevi finta di esserlo no ecco prima di riuscire a scardinare questa cosa qua le persone si vergognavano a dire che votavano a destra io ricordo nel primo anno che ha vinto berluscao meravigliao che aveva un consenso altissimo purissimo levissimo ricordo che quando io chiedevo in giro chi ha votato berlusconi tutti mi dicevano sei pazzo ma figurati se io voto uno come quello lì ma cosa dici ecco la gente lo votava ma poi non lo diceva c'era una sorta di vergogna perché se tu dici che poi voti centrodestra diventi un nostalgico diventi chissà che cosa e c'hai la camicia nera e ascolti la musica del ventennio e vai a predappi ogni anno almeno due tre volte ecco se tu votavi destra o centrodestra venivi indicato come un poco di buono una specie di nostalgico non tanto intellettualmente sviluppato perché facevi e ti comportavi come un adolescente estremista insomma ai tempi della discesa in campo di berluscao vinceva le elezioni ma nessuno l'aveva mai votato no vi giuro vi giuro che in quegli anni io non ho conosciuto mai ve lo giuro nessuno che abbia votato berlusconi non ho mai conosciuto un votante di berlusconi io vi devo dire che in quegli anni negli anni 90 credo che un paio di volte ho messo la croce su forza italia poi l'ho messa anche su un altro partito su altri partiti un altro partito e altri partiti però parliamo di berlusconi vi ho raccontato di berlusconi sugli altri partiti non ve lo dico me lo tengo per me lo tengo per me bene alla fine vedete che c'è sempre qualche finanziatore qualche sponsor eh sì la politica funziona così la politica viene mossa anche e in molti casi soprattutto dal denaro denaro che si muove quasi sempre in contanti è denaro che si muove in valigette in contanti e in quanto poi arriva in contanti dov'è boh come è stato speso boh ci avrai mica comprato rolex boh ci avrai mica comprato il mercedes boh ma dove sono tutti sti soldi boh ecco grazie a tutti e buon proseguimento di giornata arrivederci a tutti e grazie